Dopo il 20 marzo potrebbe esserci qualche risvolto più invernale sull'Italia, vivremo nei prossimi giorni una fase mite primaverile con temperature oltre la media stagionale, poi dopo il 20 marzo l'anticiclone potrebbe spingersi un po' di più verso nord sulle isole britanniche e determinare la discesa di una massa d'aria un po' più fredda da latitudini settentrionali dalla Finlandia, da paesi baltici verso l'Europa orientale ma marginalmente anche l'Italia con un calo dei valori termici. Vedremo gli sviluppi, seguiteli sul nostro sito web.